Ed eccoci qui in un nuovo video ragazzi, oggi video fantastico perché è il primo giveaway con CalcioStore24.com Prima di cominciare ti chiedo un bel like di supporto a questo video e l'iscrizione al canale, iscrizione che è necessaria per partecipare a questo giveaway E ora andiamo con il giveaway ragazzi Vuoi vincere la maglia della tua nazionale? La maglia della tua squadra del cuore? La maglia di Fantagol? No no no, questa la trovi giù nello store Questa è fuori dal giveaway ragazzi Beh ora ti spiego come partecipare, ci sono due modalità cumulative quindi avrete più chance di vincere se parteciperete a entrambe queste modalità Intanto voglio farvi vedere che magliette andate a vincere ok? Prendiamo, a parte che ce n'è un sacco, qualsiasi maglietta volete andare a trovare la trovate Prendiamo che ne so, maglietta del Milan per esempio, voi qui potete andare a vincere la maglietta, quella diciamo da 25 euro Però quella che volete voi eh, versione terza maglia, nuova maglia, quella che volete voi Ma io adesso ho guardato quelle del Milan ma qualsiasi squadra della serie A riuscite a trovarla In realtà ci sono anche maglie di qualche squadra di serie B, per esempio il Brescia Poi potete andare anche a vedere maglie, che ne so, di squadre estere, le maglie delle nazionali Come vedete qua, maglietta dell'Arsenal Possiamo andare a vedere l'MLS Vedete, ci sono un sacco, un sacco di belle maglie a prefi competitivi Tra l'altro guardate lì, il prefi è di 25 euro, più spese di spedizione Se superate dei 75 euro le spese di spedizione sono gratuite E se mettete il codice sconto GOL, il mio codice esclusivo, codice sconto GOL Avete un 15% di sconto su queste maglie Quindi è veramente un prezzo eccezionale Ora che vi ho fatto vedere cosa potete vincere, adesso vi dico come potete vincerlo Allora abbiamo parlato di due modalità Due, guardate la mano che volete, sempre due sono Modalità numero 1 Convincete un vostro amico a iscrivervi E deve lasciare un commento qua sotto Scrivendo iscritto da e il vostro nome utente Esempio, Burchiano92 mi manda qua un suo iscritto Che viene qua a iscriversi E mi scrive iscritto da Burchiano92 per esempio In questo modo sia chi ha consigliato al nuovo utente di iscriversi Che l'utente stesso avranno una possibilità a testa di essere estratti Se per esempio Burchiano mi manda 3-4 persone qui a iscriversi Lui avrà altre 3 o 4 possibilità di iscriversi Idem il nuovo iscritto può mandarmi un altro nuovo iscritto e così via E questa è la modalità numero 1 La seconda modalità è il giorno dell'estrazione essere in live E noi l'estrazione la faremo dopo la partita di Champions Porto-Juventus Noi seguiremo la partita insieme mercoledì dalle 21 Quindi mercoledì dalle 21 qui sintonizzati a vedere com'è Porto-Juventus Al termine della partita tutti quelli che mi diranno io ci sono eccetera Io li inserirò nel programma per l'estrazione E loro avranno una possibilità di essere estratti Ma se ad esempio Burchiano mi ha mandato 3 persone E ha 3 diciamo biglietti e in più viene in live I suoi biglietti diventano 4 Altra cosa Questa volta l'estrazione verrà fatta da un software E lo vedrete dal vivo Tra l'altro è molto bello perché estrae piano piano Elimina i bigliettini e ti fa vedere i vincitori È molto molto bello Quindi non ci saranno più i bigliettini che scriverò io Metterò nella scatola per essere estratti No, no, no Stavolta l'estrazione verrà fatta tutta tramite il software E voi vedrete tutto ovviamente Estrazione dal vivo ovviamente Altra cosa extra Extra ragazzi Sono gli abbonati Quindi gli abbonati base hanno Due possibilità di essere estratti Oltre al fatto che se vengono in live Hanno anche lì un'altra possibilità in più Oltre al fatto che se mi mandano qualcuno Hanno un'altra possibilità in più ancora E gli abbonati di livello alto Ne hanno 3 di possibilità di essere estratti Quindi ragazzi ripeto Fate iscrivere i vostri amici E dite di venire qui a lasciarmi un commento Con scritto iscritto da E il vostro nome utente Venite in live mercoledì alle 21 Per seguire con me Porto Juventus E al termine della partita Estrarremo il vincitore di una bella maglietta Quella che volete voi La sceglierete voi La maglia non è che la scelgo io La sceglierete voi Nella taglia E nel modello Ciao ragazzi E auguri per questo giveaway Mi raccomando Partecipate 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 Ciao raga Ciao 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 Ciao